Startup made in Italy, quali sono le tue preferite? Io ne ho tre. Il primo è Streetlib, che ti aiuta a scrivere, distribuire e vendere i tuoi ebook elettronici, i tuoi libri cartacei, sia online che nelle librerie fisiche. Il secondo è Postpeaker, che ti aiuta a gestire, programmare e condividere i tuoi migliori contenuti sui social media. Il terzo è SeoZoom, che ti aiuta a individuare le frasi chiave ideali per la tua nicchia di mercato, quali sono i tuoi concorrenti e come ottimizzare le pagine del tuo sito web affinché siano più visibili sui motori di ricerca. Tre servizi completamente made in Italy, che mi hanno colpito per la loro originalità, per come sono fatti bene e per le persone che ci sono dietro. Quali sono i servizi completamente made in Italy che utilizzi e che consiglieresti agli altri?